Ciao, sono Matteo del Tutorato di Medicina. Oggi vi spiego come compilare il proprio curriculum vite dai servizi online disponibili sul vostro mai unito, nella sezione Job Placement. Il curriculum è composto da quattro sezioni. Informazioni personali, istruzione e formazione, esperienze lavorative, capacità e competenze. 1. Nelle informazioni personali dovrai inserire i tuoi recapiti telefonici, così che l'azienda sappia esattamente come contattarti. In questa sezione potrai fornire anche altre informazioni come il domicilio, il possesso della patente, la disponibilità di un'auto con cui spostarti. Non dimenticare di salvare i dati prima di ritornare al menu principale. 2. Raccontare il proprio percorso formativo. Potrai riportare il tuo titolo di studio descrivendolo nel dettaglio e riassumendo le principali materie abilità professionali oggetto dello studio. Se commetti un errore non preoccuparti, per modificare o eliminare un titolo di studio erroneamente imputato, clicca sul titolo stesso. In questo modo entrerai nella mascherina di imputazione, dove correggere i dati. Se hai svolto esperienze di studio all'estero, come l'Erasmus, non esitare a menzionarle. Aspetta un attimo prima di andare avanti. Puoi inserire in questa sezione anche i corsi di formazione, specificando denominazione, anno, durata e allegando la certificazione. Ora salva i dati, perché hai quasi finito. 3. Esperienze lavorative. Per inserire un'esperienza lavorativa, clicca sul link Inserisci le informazioni relative alle tue esperienze lavorative. Non dimenticare di inserire in forma sintetica le esperienze professionali svolte durante il tuo percorso di studi, come i tirocini. Inoltre, se durante gli studi hai svolto altri lavori, indicali pure nel curriculum, anche se non sono strettamente pertinenti al titolo di studio conseguito. Queste esperienze ti avranno sicuramente aiutato a sviluppare competenze trasversali. 4. Capacità e competenze. Inserisci il grado di conoscenza della lingua, le competenze informatiche e le relative certificazioni, se ne sei in possesso. Se tra le tue capacità ci sono anche quelle artistiche o sportive, puoi inserire in un apposito spazio ulteriori informazioni che non dovessero rientrare fra le voci proposte, ma che comunque ritieni utili a raccontare qualcosa in più su di te. Ottimo! Ora hai anche tu un curriculum vitae coi fiocchi.